Giorno a tutti ragazzi, qui c'è Google Carco 52 Oggi siamo qui su Darkest Dungeon Per andare avanti con la nostra campagna e le nostre missioni Allora, l'ultima volta È comparsa una alien Nelle ruole occlute E adesso dobbiamo tirarla su di livello Oggi farei una rana Il 3, a livello 3 media Con un pari a livello 4 con lei Non dovrebbe succedere niente perché c'è lui Continuerà a fare la guardia su di lei Quindi non ci saranno alcuni problemi di sorta Si spera il dio Allora, prendiamo questo Ho le skill, non ho le skill Scusate, aspettate un secondo Perché qua servono le skill Tu, questo Fai così Ok, bisogna sempre controllare Prima, non si sa mai Allora, tu, tu fai così Tu Va bene così Tu le tue skill vanno benissimo Ok, adesso possiamo andare Cioè, che palle Selezioniamo bene la baglia Andiamo avanti Prendiamo tutto il cibo 3 stack sono troppi Prendiamo Prendiamo Delle vanghe Prendiamo le bende Anche se Non servono molto le bende Perché siamo a livello 3 Quindi non c'è il Super mega Iper Granchio di merda Poi facciamo Basta Sì, ok, dai Vai Speriamo non succeda niente Di malefico Perché Allora, una cosa Una cosa bisogna fare Durante le missioni di livello alto Andare via Stupido in realtà Sono stato ingenuo Vabbè Avanti Cominciamo Ok Che va prima Va bene Ok, intanto Che cosa fa lui lì in realtà? Allora, lo facciamo così Intanto Che non si sa mai Poi tu fai così Schivato Ok, ci sta Tu fai così Molto bene Ha La cosa è Lui difende lei E mettere post È l'unica cosa Cioè, è la cosa da fare Ok, arpio No, 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 no Guarda che Anche se In realtà va bene Se non me lo metti avanti Fai così Ammazzata Però ho fatto Ho fatto 10 Però non è male Non male Aia Ok Uh Vabbè Mi hai spinto Tu Tu fai così Va bene Apprezziamo lo sforzo Tu fai così Chi è che tocca? Tocca a lei Devo cominciare a curare Col Crusader Tu cura Molto bene Tu Fai così A due round ancora Molto bene Tu Sei morto Tu Non sei Non sei male Palle Ah Che palle Tu Metti la guardia di nuovo Ok Molto bene Molto bene Allora Tu Cosa vuoi fare? Tu fai così 11 6 Bene Perfetto Molto bene Tutto secondo i piani Tu Cura lei No Uh Schivato Ok Fai così Bene Bene Tutto nella norma Tu Mangia Mettetemi a posto Mettetemi a posto Per favore Grazie Tu Mangia uno Speriamo di non incontrare Il collector Ti prego No il collector Ti prego No il collector No io lo apro Normale Che mi da Uno stack di soldi Molto bene Avanti Banditi Banditi Ci stanno In realtà i banditi Facciamo così Ok Tu Fai così Ok 10 E' morto Si Allora Fai così E' l'unico modo E' l'unico modo Per non fare cazzate Ok Vabbè ci sta Studio schivato Bene Ok lui è morto Mi sto cacando addosso Va bene ci sta Voi non avete idea Quanto io mi stia cacando addosso Molto bene Tu fai così E sei morto Molto bene Tutto schifo Fortuna che hai cercato questo Fortuna Scoppia Tu Tu ammazza Tu sei morto Fai così Ma dai Ah giusto perché era posto Giusto Anch'io stupido Ok No no colpo precisivo Stronzo Dai che palle Devo Devo Fare un po' di Stalling Che non è servito Una segra nulla Però vabbè Avanti Questo non lo tocchiamo neppure Per sbaglio Tu apri qua Eh Che palle Ok Avanti Va bene Devo stannutire Ma non ci riesco Che palle Apri 70 40 70 80 Tu Oh Uff Molto bene Ok Avanti 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 Torniamo tutto indietro Con estrema calma Dobbiamo ancora campeggiare Però non è il problema Il problema non è il campeggio Il problema è tutto il resto Della quest Mi sto Caccando un po' Dosso Ok andiamo avanti Devo aumentare la velocità di cammino Dio mio Ed è il doppio Se vi guardate abbiamo una mod per La velocità del cammino Ok Trappola Trappola Vabbè Non mi sembra Non mi sembra Non mi sembra il caso Di fare così tanto Debuff al dojo Per favore Ok Vai qua Non c'è niente Dai Dai Ok sacchetto Guarda se per me non c'è C'è un fight Per me va benissimo Perché non me ne sto mai zitto Perché non me ne sto zitto mai Mai non sto zitto Mai Non metterà mai il bleeding E vabbè Allora Tu fai così Tu Mena Mena questo Ah 16 Ci sta dai Tu difendi lei Tutto il tuo compito Eh A rappionare Dai non muoverla Ok No 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 Non stunarlo Ok Allora tu Fai così Sei Vabbè Fai così allora Un attimo che Mi stanno chiamando per il telefono Che guardo un secondo eh Ok Va bene Perché dobbiamo Stiamo organizzando una cena Bisogna Capire bene come fare Per la macchina Ed è un po' un casino Ok Eh Fai così Ok Avanti Con calma Fai così Avanti Dicevo 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 Dello Dello schifo qua Dai Dicevo No Sai Mi fa in favore Se me lo sposto in avanti Va bene Fai così Schivato Porca puttana Allora 7 Quattro Dove critare in realtà Ma proviamo Ma proviamo magari Ma porca troia Arpionare No 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 Non muoverla Ok Fai così Dopo Riesci a prenderlo? 9 Va bene Approviamo uguale Allora tu Tu Menalo 14 Bravo Menalo per bene Tu fai così Che sennò questi non muoiono più Allora Arpionare Merda Devo Devo Basta Basta Devo curarlo Eh vabbè Mettiamo le post Va Sennò qua è un casino Spero che non lo stugno Ok Devo cominciare a curare Ma posso fare qualcosa o no? Grazie Fai così Così magari doggiate qualcosa Tu Tu Quoi c'è due sui moni 5 5 5 Ok Tu Refrescia qua Ok Ma basta Ma basta Per favore Dai Non siamo Ma a meno Lo è basta Tanto 12 6 Tu cura Questo Molto bene Andiamo in giro con Crusader e Healer Ma solo Healer poi Di che cazzo stiamo parlando? Ok Tu curati un po' Da sola 8 di critico Perché ho Erbe Medicinale Sì perché è il Trinket Più 20% cura ricevute Semermi 10 anni alimentari Non è male 5 Potevi impegnarti di più Uccidilo con Repost Proprio a sfregio Eh no Allora facciamo così Allora Quanto siamo? Siamo a metà circa Sì Siamo proprio giusti a metà siamo Ok Qua non c'è niente Io campeggio Campeggio e mangio Eh Cosa mangio? Mangio Mangio 4 Dopo tu fai No Tu fai così Fai così Eh Bah Più danno non serve niente Fai Precisione Dalla te Molto bene Ok Eh Tu Apri Grandi sacchi Bello Allora Così Eh Ma Va Non lo so sinceramente Se conviene Facciamo così Ok Andiamo per morire Per qualche motivo Ok Apri qua C'è un fight C'è un fight C'è un fight Eh Merda E si uccide Ma ti ho messo la precisione Ti ho messo No Allora Tu Fai così No 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 Ok Va bene Così va bene Ok Tu Fai così Ah Bravo Bravo Tu difendi Per amor di tutto Ok Tu Eh Non so Ammazza 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 che ammazza Dai Fai così Chi è che vuoi menare Ok Quattro Tu Cosa cura Cura questo Cura Ok Tu Appa ancora la protezione No ma perché M'hai detto infame Allora Tu fai così Potevo stallare un pochino Vabbè Apri qua Molto bene Che paura Che paura Che brutte cose Vedete Quando si fanno cazzate Cosa bisogna fare Ok Metti la torcia La vuoi mettere o no Queste non servono a niente Via Va bene Un'altra torcia Ok Tu Tu fai Tu fai Tu apri Tu spacca tutto Cosa ci sta qua Niente Ok Un'altra pala Per fortuna che me le sono tenute le pale Fame Ok abbiamo ancora 8 di cibo Unigliate e 2 check Cerca Esplorazione Esplorando il corpo umano Tante cose noi impariamo Che palle Che palle Che palle Troppi fight Ma perché Ma cos'è che ti dice Cos'è che ti dice Sei ubriaco Sì Di psionomia Ah che schifo Vabbè No Le erbe medicinali Oddio Io dico di falla anche in realtà Così da un trinket A caco un trinket Dentro un pesce è un trinket Pietra della salute Un trinket Ok sono quasi contento Sono contento circa Della 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 enemy composition Quasi Quasi contento Ok Giusto è morto Tu fai No Tu fai così 4 Non ti sforzare troppo Tu Fai così Che noi Che test No 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 Non stunarlo eh Ah no Un debuff basta Ok Un debuff Meno 20 di schivata Tu fai così Schivato Ci sta No 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 Bleeding Che palle Ah tu Tu Mena da Questa Tu togli Bleeding Per favore Tu metti Repost Anche se lo schivi Va bene Acqua salata Uh Ah Mazzalo 5 di che 5 5 Stiamo festeggiando Per 5 di che 21 Ok Tu cura Un pochino Tu Cura Questo Guarda come cazzo Siamo messi Ok Bello repost Che bella roba Eh la madò Questo via Scusa Facciamo così va Almeno un minimo Di reperti Li voglio anche Un minimo però Vai così Ok Torcia Stealth Stronzo Stunno Ah Molto bene No Non cominciamo Con queste robe Oh No Fai così Mancato Fai Così Bravo No che palle Non ho Uno stun Sì ho uno stun O uno stun In realtà E posso stunnare lui Con questa qui Vediamo se ci riesco Doppio stress Vabbè In nome di Mazz Devo Non posso stunnare Devo fare così Mena lui Devo fare di questo Perché Il bleeding Sta diventando Troppo alto Troppo Tu Mazzare post Ho già Ok Non posso più stunnarlo Fantastico Ok Ah Tu Mena questo Allora Eh Tu fai così Che Che Critico Molto bene Ok Facciamo così Che stress Tu Minalo forte Sei morto Non ancora Fai così Mmm Mmm Ok Un buff Un buff Sei Fai così di nuovo Così muore Ti è suiciderlo Grazie Grande E tu Fai così Per merito Bravo Tu fai così Siamo tutto Ola Bene Mazzare che soldi Non stiamo un po' esagerando Quei soldi Tu apri qua Molto bene Non c'è niente Buttiamo via tutto Avanti Avanti qua Tu Fai la trappola Ola Merda Vabbè ci sta Ci sta E adesso non ho più Le cose Non ce le ho più Mmm Che palle Non ho più le cose Uffa Non ho più le erbe Allora facciamo così Oh Che male Allora facciamo così Facciamo Zaa Ola Così Facciamo bene così Molto bene Tu Fai così Ok Tu Mena lui Tu Ti do questa Così Il debuff Meno E fai così E tu Sei già morto Molto bene Ah 12 Più Marchiato Mmm Vabbè Oh Che noia Che palle Che palle Ma che palle No dai No dai Non stessi Eh Allora Tu Cominci a tirare giù lo stress A questo Quanto stress fa? 9 Beh 9 ci sta Ok Tu Fai così Che non so cosa fare Molto bene Uh Schivato Ok Tu fai così Così magari fa un pochino più danno Se riesce a piare No Tutti schivano tutto Allora Tu Fai così ancora 6 6 13 Ammazza Oh Così tanto sui fare post Non si sa mai Eh Cos'è la fiera De Dello Dello schivaggio Cos'è Quanto Ma non è ancora morto questo Eh Sarà Non la mossa Che skill di merda è Che skill di merda è Sinceramente Ma stiamo Stiamo scherzando Dai non è ancora morta questa Tu No Meno te allora Meno te E facciamo così Ok Scoppia Prendi tutto Abbiamo un'altra stanza No Cioè No No Allora Fai così Così Butta le torce Sì le torce Ragazzi Torce Le torce Le palle volevo dire Le palle Dai Apri Scompartimento Fai così Za E za Za Quanto costa 15 5 Oh beh Mi tengo questi Più d'orsto Via Oh siamo Siamo sopravvissuti Siamo sopravvissuti A questa roba Con un gruzzoletto Ma questo non ha fatto Manco un livello Non ha fatto manco un livello Questo aiuto Manco un livello Questo ha fatto Aiutatemi Non No Non va bene Sta cosa Non va bene Che palle Eh Campione Dottore della peste Eh vai Ok ragazzi Per questo appuntamento Il Darkest Dungeon Abbiamo concluso Ho buttato via Il Trinket brutto Sì mi sa di sì Se il video vi è piaciuto Mettevi un piaccio Come ti ascrivi Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video